altro lato del lavoro in corso lavori in corso ecco qua oltre dieci anni così sopra passano i nostri alunni per entrare a scuola adesso mostro dove arrivano i ragazzi questo è il passaggio secondario i ragazzi entrano qui dal piazzale loro arrivano da là e quindi siamo sopra a questo terreno infatti ci nasce l'erba ci cresce l'erba perché è pieno d'acqua questa è l'entrata di scuola grazie a tutti